musica ciambelli, noi vi sono di Scribblenhouse, siamo G, eh sì G, siamo già a carta buia e io Gennaro, buongiorno aspetti a partire qui non so siamo stante ancora siamo stante che vola, 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 perché non voli è schifo, vedi? no, devi mettere l'interaggettivo è schifo, vai, perché non voli è uno stante volante, è uno stante volante Zapdos, oddio Zapdos no, voglio dare no, è fuck interaggettivo, no, smontalo, montalo yeah, Zapdos un mili di Pegasus è qualcosa che disamina l'ambiente per mettermi di fuggire sono di snake no, scatola 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 pizza no, 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 aspetta, scrivi... no, un pezzo è lo scatola della pizza la pizza è reale, no serve? cosa dobbiamo utilizzare? mantello serve? serve? che cazzo vuoi? le vuoi due cazzotti? le vuoi? no! beccati è questo voglio parlare con il tizzo qua le due stazioni non hanno il bagno cesso spanzi dagli un po' la poletta la lavandina aspetta se ci funziona la pagina e' questa cosa per mimetizzarmi dell'ambiente non so, bo, pittura, che ne so, grigio pittura grigia si boi beh ah, che era geniaccio mamma mia questo ti ho distrutto scusa ecco qua non si è bloccato però lo devo fare più piccolo si piccolo o veloce ti sembra uno sconso tu hai anche tutta questa merda da qui no non ce la faccio ciao addio cazzo vabbè mi fottiti tu ok tutti i super cattivi in un animale malefico ne voglio un zack no è un cazzo poco male il gatto che cammina così è bellissimo oddio questo è J. John Jameson J. John Jameson si boss abbiamo bisogno di qualcuno che guardi queste televisioni tutto il giorno Mac buongiorno Sandman Sandman la prossima è tutto Sandman Sperdamente ho trovato lo stesso no no Subavviso vaffanulla lo snervatore mi piace No qualcuno che mi guidi lungo il voglio parlare a qualcuno non lo so vogliamo dire di qualcuno che guarda segretario it's hilarious questo voglio parlare di qualcuno che è venuto lungo il giusto cammino ah se funziona il cavalliere illuminato dentro la donna anche la cavallerizza un minchia faccio a salire sopra dai un lamp to home voglio parlare questa cosa no, chissà cosa ho fatto l'abbiamo fatto un cazzo va bene, ho stato letto questo tolto nascondi qualcosa nella torta per i miei amici mi scavarono un po' attraverso le pareti ok, mi sento malefico no, cucchiaio un bel cucchiaio per scavare una bella pala, cucchiaio nella torta la pala la pentola le sbarra si si è scavato evasione gustosa bruiser vabbè che è successo qui? vabbè starlight premi no, premi lo starlight vedi se ci sta qualcosa ok, sopra ah, sopra adesso noi utilizziamo tutte le leve ah, vedi, apri le porte allora, mostrami qualcosa nel cortile in cui sono stato rapito ah, qualcosa del cortile in cui sono stato rapito pianta pianta e funziona hai visto? la pianta esce uno struzzo un belicottero un belicottero un belicottero un belicottero la pala è un belicottero ok in questo posto per la mia carità aiutami a dipingere quest'uomo di pre no paniccia paniccia tavolozza 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 una tela so mmm a me bu wow ove oddio ma cia di colore voglio domandare da dove si sono usciti queste uova ah, ah, ah peggio del corvo che ha fatto oddio l'uomo luco, l'icantro qua infatti andiamo dalla fattina di dentino voglio razzarmi di coluomo annaro dentista dentista e non sei buon luco dentista dentista ce l'ho allora signor pomolubo bene ci troviamo qui si affermo non ha sentito niente è vero? aaaaaah è vero cazzo è già funzionato ah, il mio abito tu il cibo di questa regione è adatto alla mia dieta oh 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 no ha incatenato cioè perché hanno mangiato il babbo natale? non lo so che è criminale babbo natale hamburger Luca è la buona domanda Polpette! Bel panettone Lo mangio babbo Babbo? Ah è morto! È parta a panza babbo Perché? Ingracciato Io dobbiamo colmare il diverso tra me e la principessa Scala Scala da appoggiare E non un... E' superioso Eh no Le tagliano un'altra Il problema è che le tagliano proprio a lui la scala Quanto sta a fare? Ah si sta a fare Vedrà lui? Eh? Eh? Anzi una Eh? Non mi faceva Ponte Direi Timo Brooklyn Appoggialo qui No più solo Eh adesso è andato Vai Dovete rompere soltanto Scusi signora principessa Si tolga davanti all'elenco conas Sposta il ponte più di qua Volante Ah bastava vuol... Eh perché non l'ho aceruto? Si Mi furto tanto Moriamo No Vieni Bisogna reattivarmi Vai E saldo Prendi lo starlight Mi furco Ti aiuto Si Sono scambiato Lei è caduta Vabbè Oddio Che coraggio Che coraggio Che roba è qua? Ho fatto la sfida per raggiungere l'ossaretto Come io scendo da questa stanza Premi? Ah prego Vai avanza presso il pulsante Ok Ah c'è bisogno di un peso o qualcosa Scatola 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 Contenitore Vai Ok Avanziamo l'attività Scatola No No dai No no aspetta aspetta Fallo più piccolo No deve entrare in qualche modo Non c'è La prossima cosa Sì Vado Eeeh Stintore No Volevo blastoise Eh lo so Non lo fa Non lo so Volevo blastoise Volevo blastoise Volevo blastoise Volevo blastoise Volevo blastoise Volevo lo prendere Non so Giù o giù Sta cadendo Beh la volta successiva Attendo lì E' gentile Oddio Così vuoi rompere un po' laggiù Che stessi fanno Ok Non muore Non muore Non muore Non muore Non muore Non muore Ma siamo morti Ammazzati Allora Noi Pizza questa volta Giustamente Ok Ammazzati Ammazzo con me Non so Che stessi fanno Che stessi fanno Ah Fregato Scrive veloce Chi è più veloce Non lo so Velocissimo Oddio E' flash Flash E' l'altro O come me lo stasso Quel cosa che mi ricordo Non lo so Scudo Studio Studio Che stessi fanno Che stessi fanno Che stessi fanno Noi lo togliere Ahhhh No 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 Ah Una santa Che scemo Non ce n'è Io non so io farò la franca, ho usato la franca, ma si non osserva E come fai? Credo Mignotta Immortale Non è possibile l'immortalità in questo video Credo Oh, 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 che sta facendo? Va bene Stava cadendo, stava cadendo Ho paura, perché se non mi scattano questi cosi 3 da spot Non lo so, è meglio cosa fare Eh, se stai in merca, o no? Muoviti Addio Aspetta Mentre deve dare un po' di energia a questo Ehm... E' argentico, che ne so Te dico cosa da mangiare, magari Bella banana No, no, venda, magari sicuro No, no, funziona Guarda questo a tempo, lo vedi? Un bel bazzucone Un bel bazzucone Un buco, in pazieno c'è Un buco Vaimo Che personaggia si faccia spacciare? No, perché non so Ebba Prova a passare attraverso, cioè vai passati un po' Prova a sparare questo, sto coso, anche se ho paura NOOOOO Ok, orizzontale è qua Ah sì sì Prendi qualcosa, uno scato, un ballo, una cosa leggere Il palo sopra, diciamo Esatto Cadeva che era il palo, non so se Prova piano Vai piano Passa faa No? Non è ancora finito Aspetta, madonna Non passa da sopra, non ti passa da sopra No, non la vorrei, che dove fa? Ok Tempissimo Piano piano Perché non sei passato? Ti sei bloccato Questa vostra vita è più odiosa Vai alla macchina nel tempo e fa attenzione alle violente raffiche di vento Gli spunturi sono pericolosi Eppure Puoi passare qua in mezzo, vero? Ok, dobbiamo andare al tempo Poi apri qua Adesso abbiamo fatto un bellissimo sto vizio Madonna Ok Usa macchina nel tempo per avere una soluzione, non lo sarai Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ok Apri Finalmente 3, 2, 1 raccoglilo Un po' di mazzo Buah Wuhuu Basta farò Questo gioco è a eeeh Dai che ci sono solo altri due strada Eh che palle Mamma mia Sta palla di merda Vola Vola Perché non vuoi? Eh non l'avevo fatto volante No No Usa le recette del cazzo La legge La legge Scendi giù lo fa il nuovo aiuto qua Oddio No 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 Che sei a quale? Perché l'hai bloccato più? Quale la bestia? È vero Mignotte Ok andiamo alla bala Bala Hai avuto max nella regione Bene Mi sta un breve mi piace Vediamo che è più facile Gna 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 E dai eh Allora Max deve scappare dalla un' giocatella Guardia stanca Un oggetto pescresco Bella sedia Bella potro mansina Bella tuttomma Ma poi la sedia ti ha contento Dormi Un vero Un vero Il fantasmus di capirrocino E a volte peggio Guarda Guarda La potenza fisica Fisica Senna Giustatelo non lo so qui vuoi risolvere qualsiasi cosa ora Sandman si è infantasmizzato e io come faccio a scendere? non lo so il fantasma è tutto inventato alla porta e questa si è aperta un prigioniere implorerà un pasto abundante bella di carne magna porta manca come è forte ok il prigioniere ha distrutto la porta un detenuto accetta di far passare Max non ha bisogno di un travestimento per ingannare la telecamera vestito da hamburger chissà se è finito spero di si no ho scritto hamburger hamburger costume l'avevo scritto si si ecco la prima non usciva nessuno ti conoscerà ma è hamburger man non funziona ah beh si vedi baffi proprio la logica di questo gioco baffi deve funzionare hai direttato il poliziotto pensare che tipo di sacciano i baffi eh sono la legge per che passare questo è morto il sistema di sicurezza è un lavoro solitario il programmaturio è da più molte amiche ma che se sono i metto per lo taglio il miglior amico dell'uomo il pisello no 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 torna a casa Alessi oh è fatto oddio ah si devo scendere da lì sotto come 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 fate tutti i piani send me mi fai passare grazie ok questo livello un po' strano eh ma non vedo che piano prende un avvolo l'ha preso senza che li hai visto ok andiamo su ultimo post al right ti prego ok scendi giù ok vola eccolo il giocatore di football vai che è piccolo vabbè uuuu brrrr un attacco di sonno attacco di sonno eh aduchen ah aduchen oh aduchen basta finisci aduchen glottia glottia un attacco un attacco un attacco un giocatore di football deve stare uno sportivo ehm sai da me no sai da me mmm mmm va la cuoce oh cazzo oddio questo è tipo uuuuuh luffling luffling è stato cattolato durante un'importante ricerca dagli uno sport eh un cavaliere che ne so ah fa il culo potete la pioletta insieme è scattoloso come motore ah il sassomunista vorrebbe tornare a farti in due rischi ah fa il culo ma mi ha battato nel rock la pesta anzi batterista dai mmm mmm ah che l'emo che c'entra l'emo ma questa è una cantante migliore no l'attrice vorrebbe provare le sue battute con altri attori ehm un attore un attore un attore opera tanto mmm mmm allora si parano che va si parano a suoni culturali lo scienziato ha bisogno di qualcuno con cui individerete dagli un altro membro ma questo lo scienziato così è ormai scienziatot ah giovane bricconcello bricconcello sono appena lavorata ma se potevo lo dire veramente io va la cosplayer la cosplayer è un grandissimo fan di video che già sai è inutile che te lo dico già sai già sai ecco bravo piuuu ti fai vai to ah ha acabato yeah gioco dell'ano addirittura il gioco dell'ano eh il gioco dell'ano il gioco dell'ano il gioco dell'ano è fermo così però si si un altro oddio ciao piuuz hey piuuz what's up vabbè 3 2 1 raccoglielo raccoglielo uuuuuuuuuu mi ha male il braccio uuuuuu mi ha male il braccio mi ha male il braccio abbiamo finito lì finalmente dopo tanto tempo abbiamo finito il livello tanto tempo mi ha raccolto stranamente come se non ci fosse un domani ok tra la prossima volta si andiamo qui al regno perduto delle khan mahkhala qui? no no prossima volta io sicuro? si non ti piace questo? noo voglio andare là allora no al regno perduto delle pareti si sembra più atlantide però vabbè è bello come possono respirare sott'acqua senza il bisogno di roba la prima sott'acqua ok vabbè quindi ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto mettete un vi piace commentate condividete mettete il video nei preferiti ragazzi facendo questa cosa ci ha dato tantissimo a crescere come youtubers e come community quindi ragazzi detto questo ci vediamo al prossimo episodio di Scripulans che sarà regno perduto delle parentesi ciao belli